Una giornata sentita, questa dal Rettore dell'Università di Teramo per la presentazione qui al campus universitario delle squadre della Micacci che parteciperanno ai campionati nazionali e internazionali. Molto sentita e davvero un ringraziamento straordinario alla Micacci, non solo per l'attività sportiva che riescono ad organizzare ma per aver accettato una collaborazione anche con l'Università di Teramo. La nostra ambizione è affiancare al periodo di allenamento degli atleti della Micacci anche un periodo formativo e su questo siamo pronti ad investire in qualsiasi risorsa perché ci farebbe immensamente piacere poter condividere questo periodo di permanenza degli atleti qui nel Teramano. Noi abbiamo il settore del mini basket, i stupendi amicuccioli che ci hanno anche dato soddisfazione gli anni addietro, sono stati vice campioni d'Italia due anni fa, l'anno scorso sono arrivati i terzi, poi abbiamo una buona serie B e poi la serie A che negli anni ci ha dato belle soddisfazioni, abbiamo anche vinto delle coppe europee nel 2012 e nel 2013 l'anno scorso, cioè quest'anno siamo arrivati in finale in Spagna a un'altra coppa europea, non ce l'abbiamo fatta di poco però ecco a livello sportivo siamo una realtà che vale. Oggi la presentazione delle tre squadre dal mini basket appunto dagli amicuccioli, la serie B e la serie A chiaramente la serie A poi parteciperà anche alle coppe nazionali.